da quanto tempo è vero ma che fine hai fatto che fine ho fatto è che va bene giustamente tu che ne sai vabbè che te lo dico sono stato quattro anni in galera no niente di è stato un momento difficile la vita mia ho falsificato una banconota però giuro avevo fatto un lavoro preciso cioè la stessa carta i colori uguali la firma identica c'è tu mettevi le banconote uno vicino all'altro ma no qual è l'una e qual è l'altra eppure è perché te ne ho beccato e perché la banconota che ho copiato era falsa